Guarda che alla fine si era un po' dolcito, eh? Quando vedi Guido, per favore, digli che è una merda. Ma ci sono ancora i motorini. Tu vorresti portare il babbo fino a Cervia in motorino. Portiamo solo le cenere di nostro padre e tanta amarezza. Portiamolo noi stessi. Grazie.